Oggi Maurizio Traglio ha lanciato il guanto della sfida, ha detto caro Mario incontriamoci io te e altri nostri tre eventuali futuri assessori. Sappiamo che Traglio Treglia ha indicati, diverso il suo caso. È una sfida che non intendo raccogliere innanzitutto perché io voglio concentrarmi su quelle che sono le cose concrete che ho scritto insieme agli alleati sul programma e che voglio al più presto esercitare. Non mi interessa parlare di poltrone, questo è uno schema della vecchia politica che io ho decisamente abbandonato da sempre, si può dire non avendo mai fatto politica e quindi lascio cadere volentieri questa cosa. Se invece vogliamo annunciare insieme una serie di cose, di iniziative direzzate alla trasparenza amministrativa, io per esempio ho già dichiarato che sono disponibile a lasciare completamente i miei incarichi, quello che è stato il lavoro di una vita, quelle che sono state le persone che mi hanno accompagnato in una cosa per me fondamentale e appassionante. Lui è disponibile a lasciare tutti i suoi incarichi nelle sue aziende, nelle sue finanziarie per fare questa cosa. Questo secondo me è una domanda che forse i cittadini possono porsi.